Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi proveremo un simulatore di guida e non questa moto qua, fatto molto molto bene, adesso ve l'illustrerò. Ma prima di iniziare, sigla! Bene, allora sono seduto su questo simulatore di guida con un sedile molto molto bello. Il sedile si chiama? Il sedile si chiama? Il sedile si chiama? Play sit. Eh? Play sit. Dicevo, sono seduto su un sedile alcantarapelle, roba tipo Audi, della Play sit, dopodiché davanti a me è un volante Trustmaster T300RS Ferrari Alcantara e sei subito in pole. Dopodiché, a fianco a me, come state vedendo in sovrappressione, vedrete un cambio della Trustmaster TH8A e un pilota, pilota dove, che cercherà di guidare. In questo video vedrete tre piloti, uno, dopodiché ci sarà Lorenzo che è dietro la telecamera e il proprietario che, non so dove sia, arriverà, sono a casa sua e... Alessandro, dove sei? Non c'è. Bene, correremo nella pista di spa con questa Ferrari, resisterà un minuto, poi un altro video. Adriana! Il primo a correre sarà Lorenzo, perché io voglio vedere che tempo fa. Ma i pedali? I pedali, per esempio, non le ho detti? I pedali sono! Ma perché non ci sono scritti? Attenzione, allora, non le è pazienti! Io, 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 io! Io, 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 io... Le stai greco? Le stai greco? Come avete visto la copertina, lo sfidante più forte è Alessandro Bel viso, bel volto, si, ti riconosceranno tutti Lorenzo ha un'antenna in testa, non so cosa serve E io correrò in mezzo a loro due Vediamo intanto Lorenzo che tempo fa, poi cercherò di battere il vero Lorenzo Impossibile, lui imbattibile Iniziamo Allora, quello che lui non sa è che io gli darò fastidio tutto il tempo Allora, stiamo correndo a Spa La famosissima pista della Formula 1 con una Ferrari Che da 300 euro No, puoi sbagliare Dai, sbaglia, sbaglia, arriva lunga, lunga, lunga Bárbido, posteriori Bárbido, bárbido Niente, non sbaglia Bárbido, 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 bár Nel frattempo abbiamo togliato un po' di pezzi perchè lui non dice niente E' concentrato perchè non vuole arrivare all'ultimo E infatti non arriverà l'ultimo Eccolo! Esci, esci dalla pista, esci! Ecco, perfetto! No! PERFETTO! Si, si, si! E così ti sentito male, guarda Io rinuncerei a questo punto Il miglior giro Un minuto e cinquantadue Ce ne farò a scendere sotto i due Si, ma scusa, io ve nemmeno usate Il mio obiettivo è far sotto i due minuti Ce ne farò Lo vedremo nel prossimo video Esatto Nel prossimo anno però Si Dove va? L'autogrill dov'è? Autogrill è da sempre l'intervallo di ogni tuo viaggio Servizio in casa Qua in poi, tra tutto, fino all'ultima città Esatto! Mi dispiace Da qua giù tutto oggi Da qua giù tutto Giù tutto, eh Tutto Alignano se lo dà Non sbagliamo, mi raccomando Il fogo era di riscaldamento Si No, l'ho fatta forte all'età Cioè dovrei entrare sul lato qua L'ambulante sembra che l'hai messo in salamoglia C'è la moglie E' G E' quanto tempo Due minuti e quaranta Questa è la mia curva, eh Aspetta Piano Ha il cordon freno, eh Quanto non fa su? Ero troppo emozionato Ero troppo emozionato Piano, piano Ero troppo emozionato Sono emozionato Mi sento giù Vai, 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 vai Mi sento pilota Vada, vada Vada che ce la fa Quanto manca? Hai ancora due secondi da giocarti Eh, non ce l'ha fatto Giù tutto adesso Solo tu, eh Tira a pull, eh Gira il volante Io giro Nooo Nooo Due minuti e due o tre Ma poteva essere sotto due minuti Va bene Ora tocca ad Alessandro E io che vado a fermare le mutande Bene Adesso tocca ad Alessandro Che cercherà di battere il mio tempo Cioè Neanche Schumacher ce l'ha fatto Andando in retro Nicca Beh, non pensare mica di battere, no? Sono... Sì? Sono meglio di riscaldamento Ah, è meglio di riscaldamento Ok Quei dieci secondi in rosso diventeranno verdi Attenzione, eh Non voglio neanche guardare Se vi vi è piaciuto lasciate un like Iscrivetevi ai commentati Ma s***** Ma forse non possiamo dire Aspetta E dopo il primo tentativo Siamo già a due secondi sotto Ma vai Eeeh 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 Vedi? Mamma mia Quindi ultimo giro Miglior giro 1-48-8-8-8-6 Chi sei l'ultimo che non c'è nessuno? È Covid Allora Abbiamo appena finito di correre Infatti che corso Sono sudato Sono arrivato terzo Lui è arrivato secondo Lui è arrivato secondo E qua è campione Come da previsione Con due minuti e zero due Il capo Tei che si bisogni A posto alle 3gs Con 1-5-2-3-8-9-1-2-1-8-1-1-0-2-1-1-1-1-2-3-2-1-1-1-1-8-1-1-1-4-8 Grazie a tutti!